I carabinieri della stazione di Mezzo Iuso hanno denunciato a piede libero due uomini e una donna dopo essere intervenuti insieme ai vigili del fuoco per un vasto incendio boschivo in Contrada Lacca. Le conseguenti verifiche hanno consentito di individuare due uomini del posto impegnati in un taglio radicale degli alberi. Pertanto i militari della stazione, in pieno coordinamento tra reparti dell'arma, hanno coinvolto negli accertamenti i carabinieri del centro antichirimine Natura di Palermo, Nipaf. I riscontri presso l'area boschiva, costituita da una fustaia di roverella con presenza di querce da sughero e castagni, hanno evidenziato che a fronte di un'autorizzazione per l'esecuzione di un taglio di diradamento di 150 alberi, rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Palermo in favore della proprietaria dell'area, era stato effettuato un taglio a raso di tutte le piante di roverella con rilascio di pochi esporadici arbusti in doffiormità sostanziale con quanto autorizzato. La proprietaria del terreno e i due uomini, esecutori materiali del disboscamento, ritenuti altresì responsabili per colpa dell'incendio dell'area boschiva, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Termini Merese. L'area, pari a 8.000 m2, nonché il legname indebitamente abbattuto e gli strumenti utilizzati per il taglio, sono stati sequestrati.